Sì, c'è il Tecno Team Alvese, eccoci con il nostro coach, Isis. Ora Marco, una partita direi dalle fasi alterne, una rimonta a tratti forse anche sperata, però brava le ragazze a recuperare, come l'hai vissuto tutta la partita? Abbiamo non approcciato bene la partita, è già successo altre volte, però a differenza delle altre volte l'avversario ci ha concesso di tornare. Sono molto contento del gioco espresso, anche della ragazza che sono entrata dalla panchina, abbiamo avuto un netto miglioramento rispetto alle ultime due uscite, sicuramente il coro del paradis ci ha aiutato, ma noi puntiamo comunque a rimanere nei play-off, quindi la prossima giornata in casa contro San Masson per noi sarà fondamentale e ci portiamo a casa il punto che ci siamo guadagnati sull'arte stasera, che è sicuramente un punto guadagnato, nonostante alla fine ci sia stato un po' di amarezza, ma come è finito il quinto sette.